Ciao a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video oggi andremo a mettere una nuova allerta meteo per forti temporali e le aree interessate attenzione perchè questa volta sarà soprattutto il centro sud ma prima di cominciare e continuare vi invito ad iscrivervi al canale lasciare un mi piace e attivare la campanella per non perdervi nessun nuovissimo video per voi un piccolo gesto ma per noi è importantissimo e vi ringraziamo del raggiungimento del traguardo dei 20.000 iscritti e puntiamo ad aumentare sempre di più proprio per questo iscrivendovi e attivando la campanella arriveranno direttamente le notifiche sui vostri dispositivi così da rimanere sempre aggiornati e senza dover andare a cercare ulteriori informazioni riguardanti le nostre previsioni detto questo andiamo rapidamente a vedere lo scenario nella giornata di oggi i forti temporali si sono andati a sviluppare su tutto il centro e nord Italia aree molto colpite sono soprattutto quelle delle Marche dove tra Macerata e Ancona si sono verificati i forti temporali sul resto d'Italia fenomeni molto intensi ma senza dover al momento andare a evidenziare effetti gravi temperatura in età diminuzione in questo momento su tutto il centro e nord le temperature sono comprese tra i 17 e i 24 gradi quindi l'aria fredda è entrata come da previsione ma attenzione perché il sud deve ancora essere colpito e come avevo già detto prima un grande protagonista di questa ondata d'aria fredda è proprio il centro sud come possiamo vedere da queste immagini i temporali si andranno a sviluppare soprattutto la serata di oggi quindi del 4 agosto nelle prossime ore i precipitazioni si andranno a sviluppare soprattutto sul Mediterraneo e sponda tirrenica quindi sulle coste di Sicilia, Calabria, Campania e anche della Basilicata e del Lazio attenzione però perché durante la nottata questi temporali si andranno a spostare gradualmente verso l'Adriatico e soprattutto durante la giornata di domani a partire dall'ore più calda e quindi tra mezzogiorno e le 3 di pomeriggio dei nuovi temporali si andranno a sviluppare sulle aree interne del Lazio, della Marche, dell'Abruzzo, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e non escludiamo anche i fenomeni molto intensi con venti molto forti e anche il rischio di grandinati proprio perché i fenomeni dovrebbero essere un po' più intensi sul centro sud perché qua la differenza termica tra il suolo e gli strati maggiori è maggiore scusate per ripetizione delle parole è maggiore rispetto a quanto è sul centro e nord Italia quindi emaniamo all'erta generale da nord fino a sud Italia anche forse una meno colpita potrebbe essere la Sardegna ma per il resto di tutte le regioni invitiamo la massima attenzione vi ringraziamo della visione e vi invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale lasciare un mi piace e attivare la campanella per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo